Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartoman Tic e oggi andremo a vedere quali saranno le energie per la settimana che sta per iniziare, quindi dal 28 di giugno al 4 di luglio. Restate con me! Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi qui sul canale, siete su Cartoman Tic e come ogni domenica stiamo per vedere quali saranno le energie per la settimana che inizia domani, quella quindi che va dal 28 giugno al 4 di luglio. Sì, siamo arrivati a luglio, siamo decisamente, già lo siamo da un po' però decisamente in piena estate, quindi ci aspettiamo magari anche di trovare qualche bella notizia su come andranno le vacanze, sicuramente almeno le giornate di sole cominceranno a non essere più una rarità, già da molto, però adesso siamo entrati proprio nel pieno della stagione delle vacanze, quindi spero che molti di voi avranno anche già fatto dei programmi. Io come sempre inizio ringraziandovi per la crescita del canale, per la crescita di Instagram, per tutto l'afflusso di notizie, di messaggi, di incoraggiamenti che stanno arrivando e che per me sono molto importanti. Vi ricordo che giovedì ci sarà il primo modulo, che volendo è anche a sé stante, del corso di interazione, quindi di lettura sincronica tra tarocchi e le norman. Ne approfitto anche per rispondere ad alcune cose che mi sono state chieste a me o a Chiara perché è in collaborazione con il salotto dei tarocchi. No, non è quello che faccio io, cioè di prendere un arcano e vedere come interagiscono le le norman, non è neanche come prendere dei tarocchi e vedere cosa dicono le norman. È proprio capire i diversi linguaggi perché sono veramente diversi anche come sequenza di interpretazione, come metodo di interpretazione e anche come cose che ci possono dire. Quindi lo scopo del corso è quello di fornire un metodo per fare una lettura profonda, proprio approfondita, sotto diversi aspetti che, insomma, a volte né uno né l'altro mazzo possono magari dare, per quanto siano due mazzi completi. Non parliamo poi i tarocchi che sono il mio primissimo amore, credo di molti, quindi non è assolutamente un dire che una cosa è incompleta senza l'altra, ma anzi è un modo per farle lavorare insieme e ottenere delle risposte dettagliate e soprattutto utili, più utili che se facessimo con una sola. È un corso che presuppone, insomma, che voi sappiate già i vari significati, che sappiate per quanto riguarda me, almeno effettuare, scusate, gli abbinamenti come volete, non c'è bisogno di aver fatto il corso con me e almeno fare una lettura lineare di base. Questo perché poi nei corsi, invece, approfondiremo proprio anche quali tipi di letture utilizzare con quelle dei tarocchi, quindi poi per i tarocchi il discorso è uguale, le competenze devono essere tali per cui si danno per presupposta, ecco, non ci soffermeremo a spiegare dettagliatamente i significati delle carte, perché per quello poi arriveranno, torneranno gli altri corsi, quindi nel caso mettetevi comodi, aspettate i corsi, quelli base o quelli avanzati con questo tipo di letture, e poi naturalmente ripeteremo anche questo, quindi c'è spazio per tutti, anzi, io vi ringrazio tantissimo per le informazioni che chiedete, perché è importante darle, ma almeno so quali dare, ok? Quindi vi aspettiamo, per questo modulo le iscrizioni si prendono da cartomantic.com alla voce corsi, e il prossimo modulo invece sarà sul salotto dei tarocchi, quindi come volete potete sempre trovare un modo per iscriverci, così ci divertiremo un po' insieme e impareremo tante cose. Bene, finita questa parte che era doverosa, perché appunto mi sono state fatte molte domande, così è più rapida, vi ricordo che questo è un interattivo, quindi è inutile che stia di nuovo a spiegare, le varianti sono la bianca, la rossa e la viola, come sempre trattenete ciò che vi riguarda, ciò che no, lasciate andare, se non vi riguarda niente cambiate variante, se no sarà per la prossima volta, l'ho fatta un po' breve, perché se no, insomma, tutte le volte la tiritera, ok, quindi sapete già come funziona, ricordatevi che qua sotto ci sono i timestamps per andare direttamente alla vostra variante, così da non dover girare per tutto il video alla ricerca della pietra del vostro colore, questa volta faremo una piccola aggiunta alle cose che potranno dirci le nostre carte, per vedere come affrontare la settimana, e vi ricordo che da domani invece ci sarà l'oroscopo su Instagram, quindi con le previsioni segno per segno coloraclogé. Bene, io ho detto tutto, a questo punto vi lascio scegliere, scegliete come preferite, una volta che avete individuato la variante, cliccate nella descrizione su quella che vi interessa, e io vi aspetto lì, a fra pochissimo. Variante pietra bianca, cominciamo con questa variante per vedere come sempre ci collochiamo all'interno della settimana, vedendo come arriviamo dalla settimana passata, prendendo una carta da qui e vedendo quali sono le energie, diciamo così, di riporto, vediamo un po', da dove stiamo partendo, serendipità, beh insomma non vi è andata male la settimana scorsa, comunque questo non vuol dire che non sia successo nulla di importante, semplicemente che evidentemente questa cosa o vi ha lasciato in uno stato energetico buono, comunque abbastanza sollevato e rilassato, o magari se è successo qualcosa anche di molto importante, adesso lo avete ben metabolizzato e ne state facendo buon uso, perché queste sono energie decisamente leggere, non per questo superficiali, lo dico sempre, leggere, quindi di qualcuno che prende la vita come viene, perché se lo può permettere, è un grande lusso poter prendere la vita come viene, nel senso andare incontro alle cose che arrivano senza troppe preoccupazioni, è un lusso soprattutto in questo periodo, allora vediamo cosa ci dicono gli Osho Zen, l'abbondanza, direi che la settimana sembra messa al meglio, ma ovviamente sapete che stiamo con due carte, quindi adesso prendiamo una lama degli arcani maggiori, come ho detto nell'introduzione, questo non è quello che imparerete nel corso di lettura sincronica dei romani tarocchi, perché questo credo che la maggior parte di voi lo sappia fare, quindi non è assolutamente questo, qui la lama dei tarocchi, degli arcani maggiori, la usiamo più che altro in veste quasi oracolare, qui abbiamo la ruota di fortuna, quindi ne prendiamo un'altra, allora diciamo che abbondanza va bene, serendipità va bene, però non siamo proprio scioltissimi, nel senso che pronti ad affrontare la vita, ma siamo un po' così, un po' sulle nostre, o quello che abbiamo ottenuto, che sia stato facile o meno, adesso ce lo teniamo strette, altrimenti io quello che ci vedo qui è che proprio per queste energie così positive, non abbiamo tanta voglia di affrontare altri cambiamenti, ce ne stiamo nel nostro brodo, e gradiremmo, perché ancora non sappiamo come andrà, gradiremmo non andare oltre, perlomeno gustarci questa cosa, è una carta all'energia dell'eremita un po' fredda, se vogliamo, un po' respingente, insomma comunque di qualcuno che non ha proprio voglia di frequentare il mondo, visto anche soltanto il nome della lama, però è anche di qualcuno che si guarda indietro, che contempla ciò che è accaduto, che medita sulle cose come sono andate, quindi o qua è rimasto ancora qualcosa, che nonostante sia andato tutto bene non vi convince, quindi state cercando di capire cos'è, oppure state semplicemente riflettendo su quanto è accaduto, sugli avvenimenti della settimana scorsa, e non siete molto disposti comunque a rimettervi in gioco, un po' di stanchezza magari. Vediamo, è due di aria, non riesci o non vuoi prendere una decisione, uno stallo stai fingendo che non ci sia alcun problema, allora sembrano in contrasto ma in realtà assolutamente no, come potete vedere basta un attimo per capire che qui diciamo che vi siete presi il buono da qualche situazione, come vi dico abbondanza, però qua potrebbe esserci qualcosa che ancora deve finire di girare, che questa ruota ancora non abbia terminato proprio il suo corso completo, ma voi siete in un'energia un po' di appunto di stallo, di riflessione, di considerazione di ciò che è stato, quindi diciamo che è andato tutto bene, tranne quell'1% che magari richiederebbe un po' il vostro intervento e in questo momento non ne avete voglia, quindi questa è una settimana in cui probabilmente penserete sul da farsi, vediamo perché, andiamo a fondo, dolce amaro, c'è proprio questa situazione, sì sono contenta però è sempre quello, però c'è qualcosa che non mi convince, però non siete almeno per come affrontate questa settimana, non siete ancora nell'energia di dire va bene, quel pezzettino lo metto a posto, c'è ancora qualcosina da mettere a posto, ma non ne avete voglia, vediamo se poi i fatti invece non vi spingeranno verso un'azione, anche se non avete voglia di intraprenderla purtroppo, perché vi state fingendo che non ci sia alcun problema, invece qualcosina che vi disturba c'è, indipendenza, questa è la parola chiave, vediamo perché è uscita, allora facciamo un po' di sano spazio, mettiamo qua le carte che ci sono uscite e andiamo a vederci questa settimana dal 28 di giugno, che è il compleanno del mio papà, non ve ne frega da niente, ma a me sì, perché sono 90 signore e signori e tanto di cappello, quindi per me è una settimana importante e spero che lo sia anche per voi, che porti fortuna, vediamo questa settimana come sarà, guardate, allora qui c'è ancora qualcosina veramente un'occasione da cogliere, tra l'altro come abbinamento a volte per alcuni versi questo quadrifoglio può essere accostato alla ruota di fortuna, però è ancora tutto chiuso, cioè potete fare questo rush finale, ma non siete in vena come dire, no? Quindi qua effettivamente abbiamo una situazione un po' conflittuale, vediamo, eccovi, lo dico, sì, lo dico, rapida, chiunque voi siate, voi siete rappresentati da questa carta qui perché sono io che giro le carte per voi, punto, i final, non lo dico più perché sennò ripeto sempre le stesse cose, però se qualcuno fa per la prima volta sappia anche che il motivo è perché sono io a girarle per voi, ok? Quindi anche se siete un signore, siete così oggi, è un segna posto, ok? Allora, effettivamente qua poi alla fine secondo me è una decisione la dovrete prendere, però questa è una settimana dove benché le cose siano andate molto bene ultimamente e poi vedremo soprattutto in quale settore, qui c'è qualcosa che dovreste o rinnovare o dovreste non abbassare la guardia, non essere in questa energia del ma si fa niente, va bene così, tanto è andato bene tutto, quindi anche se c'è questa robina mi dà fastidio, non faccio, non mi metto in gioco perché sono stanco, però questa cosa vi crea un conflitto perché è in mezzo tra una vostra, diciamo, un vostro atteggiamento costruttivo e il raggiungimento completo, completo di quello che vorreste che state lasciando invece così incompiuto. Qua abbiamo questa nave che io voglio ben interpretare, ma adesso andremo a vedere, secondo me è proprio che alla fine decidete di farlo questo piccolo sforzo, in alternativa potrebbe essere che girate le spalle, però sapete che con l'Ele Norman, un po' con tutti i mazzi di carte, ma con l'Ele Norman soprattutto, bisogna anche andare a vedere quali sono gli abbinamenti, i mirroring e tutte le altre cose. Allora, vedendo i mirroring io qua direi che alla fine decidete di fare ciò che vi farà stare poi finalmente bene, perché è vero che state dicendo non importa, però importa, perché evidentemente questa cosa un po' vi dà fastidio. Che cosa potrebbe essere? Adesso andiamo a vedere con maggiori dettagli, però potrebbe essere per esempio una pace fatta o una relazione finalmente consolidata con qualcuno, ma manca quella cosina lì, una rassicurazione, una dichiarazione un po' più esplicita, un programmare qualcosa insieme e voi dite vabbè però sta andando tutto bene, non voglio fare guastafeste, però vi dà fastidio. Potrebbe essere per il lavoro che avete finalmente una situazione lavorativa che vi soddisfa, ma manca magari una clausola nel contratto, una condizione se vi devono assumere o una parte importante se vi hanno affidato un incarico, importante per voi, perché in linea di massima sembra essere andato tutto bene. Qui la vostra indecisione però guardate come siete pronti nel caso ce l'avete sulla punta della lingua, ma c'è un po' di reticenza, un po' di dubbio che se farete bene o non fate bene, non vorrei sembrare ingrato, non vorrei sembrare incontentabile, però se non siete contenti evidentemente. Adesso andiamo a guardare come andrà. perché io parlo di lavoro quando so. Ecco qua. Come sono chiare. Allora, dunque, iniziamo col parlare d'amore. Che dobbiamo fare? È così, è così. Allora, primo caso assolutamente, diciamo, evidente anche ai più. Qui si tratta di una relazione con qualcuno già in atto o che sta per concretizzarsi o che sentite che sta arrivando, ma è con qualcuno che fa già parte della vostra vita anche nel mondo, diciamo, immaginario, non lo so, però è qualcuno che per voi è importantissimo, su cui state però dubitando, si viene a formare finalmente una ripresa, lo vedete che qui è una ripresa, quindi è qualcuno che, magari nella più lontana delle ipotesi, qualcuno su cui avete messo una pietra sopra perché non si riesce a cavare sangue da una rapa, cioè, no, magari aspettate che succeda qualcosa da chissà quanto, non succede niente, sembra sempre che arriviamo a tanto così, poi questo, questa, se ne va per altre vie e avete detto, uff, allora, qui la cosa si, o si è appena concretizzata, che mi spiegherebbe questa abbondanza che ci portiamo dietro dalla settimana scorsa, questa serendipità, ma anche questo rimuginare su come stanno andando le cose, oppure, sì, può essere stato un ritorno, può essere che capiti addirittura a cavallo, a questo punto io sto facendo il video di domenica, tra stasera e domani, dai, via anche tra lunedì e martedì, ok? Però è una situazione in cui questa figura per voi è decisamente importante, non è una cotta, questo è qualcuno per cui sentite, magari anche inspiegabilmente, qualcosa di molto forte. E noi abbiamo all'inizio di questa settimana, effettivamente, nonostante questa perplessità, perché comunque è una persona che vi ha generato delle perplessità, è una persona che vi ha lasciato a volte nel dubbio, è una connessione che voi avete sentito, ma magari in alcuni casi avete dubitato, vedete che qui abbiamo proprio l'albero che è il massimo della connessione, con questo bivio, come per dire, ma forse ho capito male, in ogni caso questa è una settimana in cui all'inizio di questa settimana molte saranno le risposte positive, le conferme, perché appunto andando a vedere il secondo caso, qui potremmo essere all'interno di una coppia che ha vissuto una crisi di quelle salutare, quindi magari senza tirarsi i piatti, però una cosa che ha fatto riflettere entrambe le parti, e qui iniziamo la settimana pur con dei dubbi che però sembrano venire chiariti. Sì, ci può essere stato anche un tradimento, yes, quindi ecco, diciamo che questa situazione va migliorando, prendendo piede all'inizio della settimana, però il tarlo di qualcosa vi rode, c'è niente da fare, cioè abbiamo la frusta e abbiamo il cuore qui, o avete paura che se si tratta di un fedifrago si ripresenti la situazione, che non sia sparito l'ex, che non sia veramente deciso o decisa a fare seriamente con voi, che vi abbia detto delle cose per tenervi buono. C'è un pezzettino del puzzle qua che manca e che può sembrare ai più una cosa secondaria, ma per voi non lo è, memory di ciò che è stato per voi la storia effettiva o immaginaria con questa persona, cioè le cose vanno bene ma vi manca l'ultima rassicurazione per essere felici. Di fatti qua inizieremo con questo mentale, su questa relazione, su questa frequentazione, a ridosso del fine settimana con voi che siete con questa montagna, come dire, parlo o non parlo, lo dico o non lo dico, sarà vero o non sarà vero, avrò sbagliato, magari sì, poi sono sbagliato e lo dico, rovino tutto, insomma, bloccati, la montagna c'è poco da dire, bloccati. Bene, adesso orientativamente non posso dirvi che domenica prossima sarete tutti a chiarire questa cosa qui, diciamo che questo è il flusso della settimana, poi ovviamente siamo tanti e questo è un interattivo, però avevamo dei dubbi, avevo dei dubbi sulla possibile interpretazione di quella nave, perché a volte può essere anche allontanamento, invece siccome questa chiave chiarisce in parte questa nave con questo mirroring, io direi che vi decidete e parlate e che va anche molto bene, perché qui la situazione prende una piega diversa e la relazione cresce, la chiave fortunatamente risolve tutto il mentale, risolve tutti i vostri conflitti interiori, ma secondo me anche esteriori, sapete, non parlo di salute, no? Però, e quindi fidatevi del perché vi dico queste cose, non mi piace dirle perché comunque fanno parte di tradizioni non ben avallate, però insomma quello che io mi ricordo che mi veniva detto, qui ci sono anche delle combinazioni, qualche reazione nervosa potrebbe venirvi, no? Quando a me succede, soprattutto finché ero madre dei due studenti di liceo, no? Mamma e improvvisamente, no? Viene da grattarsi le mani perché si formano le bolle, ecco adesso io spero di no, però nel senso qualche reazione un po' nervosa, magari una mancanza di appetito oppure vi viene subito, oppure non sapete appunto bene perché vi grattate, cioè siete, quando si finge che tutto vada bene, da qualche parte deve uscire, ecco, no? E questo è uno di questi casi secondo me, per cui alla fine sarete veramente spinti anche da madre natura a parlare, ma a parte gli scherzi qua c'è veramente in gioco tanto, perché questo è amore vero, o se non è vero, verissimo, per voi in questo momento è quello di cui avete bisogno, lo dico sempre, non c'è una classifica di quanto se è più o meno amore, se è più o meno vero, in questo momento è quello che voi volete sentire, state bene, questa persona con voi sta bene, andrebbe anche tutto bene, però c'è appunto quella cosa irrisolta che voi avete scelto per un po' di far finta di niente, ma poi, no? Dovete parlare e come vi dicevo con questa carta così forte sopra di voi il rischio c'era che non faceste niente, invece credo proprio, anzi sono assolutamente certa con questo abbinamento che poi deciderete di aprirvi e meno male perché questa sarà la fase risolutiva, è una cosa che va bene, è un'iniziativa che prendete e che avrà un esito positivo, male naturalmente anche per i single che tanto magari hanno aspettato, a me non piace dire di essere notati perché non è che siamo alla fiera, però magari di un segno un pochino più esplicito da parte di qualcuno, qua il segno arriva, però magari non abbiamo capito se questa persona vuole darci un segno a lungo termine o se questa persona magari ci dà questo segno ma è ancora impegnata come sapevamo, sapete sono quei piccoli particolari che tanto piccoli non sono e prima volete godervi la festa, questo finalmente questo passo avanti, questo progresso nella reazione, poi però dite sì, bello ma e vedo proprio la seconda metà della settimana molti di voi con questo dubbio se esprimere o no le perplessità, sono contenta di dire che le esprimerete anche l'altra persona comunque lì che è pronta a dare spiegazioni e sta cercando magari un segno per vedere se può parlare, quindi qui vi incontrate e qui c'è un grande progresso, un avanzamento decisivo per la relazione che c'è o per quella che arriverà anziché appena arrivata e che comunque dovrete poi far sedimentare in modo che poi cresca in futuro. Allora per quanto riguarda il lavoro, qua è chiaro che questa stesa ci dice, ci interessa lavoro qua, però noi lavoriamo lo stesso, quindi che cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che qui si tratta di la possibilità di un rinnovo di un contratto o di un avanzamento non grandissimo, però vi viene proposto qualche cosa che state anche aspettando, ma c'è qualcosa che non è detto, ecco, cioè non qualcosa che non vi convince perché vi sembra ingannevole e viene trascurato qua qualcosa, qui qualcosa in meno, anche se non ci sono i topolini. Voi comunque questo miglioramento lo volete, può essere anche un trasferimento, non è notizia da un altro posto di lavoro, questo riguarda chi ha la possibilità, come vedete, di migliorare in casa sua, cioè nel posto dove è già, è qualcosa che vi piace, però questo contratto vi lascia pensare, 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 ok? Anche qui, chiaro che se è qualcosa di lavoro non penso che potrete andare a fare le vostre dimostranze di domenica, no? Quindi qua restringiamo i tempi, sicuramente però le energie sono prima di entusiasmo, poi di un po' di smorzamento dell'entusiasmo perché non sapete che fare e poi alla fine parlare di quelli che sono i vostri dubbi. Per la maggior parte di voi entro questa settimana questi dubbi saranno risolti, per qualcuno magari si rimanderà la prossima settimana, ma il cammino ormai è fissato. Sono carte molto belle per chi ha deciso questa indipendenza, ma qui è un'indipendenza mentale qua, è arrivare qui con le idee chiare, quindi questo riguarda anche l'amore, non vuol dire che tornate single, vuol dire che tornate a pensare senza condizionamenti. Per quanto riguarda, dicevo, chi si sta mettendo in proprio, allora qui state aspettando probabilmente una risposta per quanto riguarda dei soldi o perlomeno se avete accesso a dei fondi e vi vengono probabilmente messi sotto il naso alcune soluzioni, ma non quella che pensavate che vi sarebbe stata proposta. Anche qui parlate, chiarite, perché è una settimana dove se mettete a posto, diciamo quindi se vi liberate dei dubbi che avete, i presupposti poi sono ottimi per la settimana prossima. Chiaramente non tutto si può sviluppare all'interno di questa settimana, se no vivremo a blocchi. Questa settimana il amore è questo, il lavoro è questo, no, qui funziona così. O se poi alcuni di voi hanno la fortuna di risolvere tutti insieme, io sono la prima a essere contenta, però è più inconsueto. Allora, questo sapete che è un po' l'abbinamento che è per rinnovare casa o per rinnovare contratti, come vedete, qui c'è la possibilità di rinnovare il contratto d'affitto, però qua c'è da trattare ragazzi, perché secondo me qui non farete tanto fatica a parlare, perché potrebbe essere che la proposta presupponga un rialzo consistente, quindi qui dovrete lottare, ma alla fine, ecco, in questo caso le cose vanno bene, però non posso non dirvi che magari la soluzione sarà di pensare di andare da un'altra parte. Non è ribaltato il risultato, lo penserete perché qui c'è già un'altra possibilità che avete, quindi in ogni caso diciamo che il succo della questione è che non vi piegherete, molti di voi avranno la possibilità comunque di restare dove sono e di ridiscutere favorevolmente, però non dimentichiamo che questa è la fortunata evoluzione di qualcosa, ma quella nave può voler dire anche trasloco, quindi potrebbe anche essere che decidiate felicemente di andare da un'altra parte, sempre a condizioni chiare, perché qui parlerete con fatica, chi è qua non ama parlare di queste cose, perlomeno non questa settimana, ma l'avevamo già capito, quindi all'inizio energia un po' di trattenere perché facciamo finta che vada tutto bene, poi però secondo me qua sbollite e andate a parlare, questo un po' per tutte le situazioni. Allora, io vorrei vedere soprattutto quella montagna perché, cioè se è soltanto timidezza, se è soltanto paura di rovinare qualche cosa o se c'è qualcos'altro, vediamo un po'. Allora, qui vi arrivano delle notizie che vi sbloccano, ok? Vi arriva un messaggio probabilmente, che sblocca. Quando vi dicevo che l'altra persona, se stiamo parlando, guardate, qui si apre il libro grazie alla collaborazione, che l'altra persona, se parliamo d'amore, è collaborativa e aspetta comunque che voi chiediate, è un po' in una situazione simile alla vostra, bene, questo, vedete che questa montagna si sblocca grazie alla collaborazione di qualcuno, evidentemente a voi fedele, che è lì che aspetta di aprirlo il libro, quindi è una bella notizia, nel senso che non avete dall'altra parte qualcuno che vuole nascondervi nelle cose, come invece probabilmente penserete. Può essere anche l'aiuto da parte di una persona amica, che magari vi dà qualche suggerimento, perché ricordiamoci che c'era al taglio la lettera con il cavaliere, quindi ben potrebbe essere anche qualche messaggio o qualche notizia che vi arriva e che vi dà il coraggio di muovervi e di parlare. Comunque è una settimana direi altamente positiva, dove vi sbloccate vostro malgrado, perché sentite anche in sostanza che ne vale la pena, no? Quindi andiamo a vedere adesso qual è il consiglio per le energie per questa settimana. Facciamo un taglio perché stendere queste risulta pressoché impossibile, a meno da avere appunto un mobilio apposta, cosa che non ho. Allora, qui incoraggia il delight e la nostra capacità di creare e di sperimentare il senso di gioia, quindi dobbiamo sforzarci, effettivamente qui, come dire, le cose belle sono tante e quindi prendere la forza dalle cose belle per riuscire a sistemare quelle che non ci convincono, in modo da perdurare in questo senso di completezza. Mi sembra che non facciamo più in sé, nel senso che a volte le cose sono più semplici di quello che noi pensiamo, basta fare appello alle energie giuste. Queste sono le energie che vengono suggerite per questa settimana, o meglio, quelle su cui c'è il suggerimento di puntare per questa settimana. Vediamo se c'è qualche imprevisto. Qua è sempre difficilissimo. Imprevisto qualche conferma. Allora, beh, innanzitutto protezione. Protezione e guardate qui, c'è un libro da aprire e questo l'abbiamo visto, però ricordate che questo è molto forte, sempre. Parlate, parlate, annunciate, fatevi sentire, anche qui. Attenzione, attenzione. Questa è una cosa che dico soprattutto per chi tra voi qua magari è timido e quindi quando fa fatica a esprimere qualcosa, rischia di uscirsene con dei toni che non rispecchiano la sua vera natura, mite, tranquilla, comunque accomodante. A volte si rischia di uscire con dei toni che sembrano aggressivi e che assolutamente non corrispondono a quello che vogliamo dire, ma la fretta è tale di liberarci, no, del macigno che purtroppo a volte succede questo. Questo è quello che vi viene suggerito, magari ecco, un piccolo accorgimento per far andare al meglio le cose, soprattutto direi per quanto riguarda il lavoro. E poi abbiamo una figura che sì, un po' rispecchia questo serpente, però in questo caso questa porta molta fortuna, quindi è una bella dose di ottimismo, quindi non pensiate che sia la serpe, ma questa invece no, è un altro tipo di animale, un altro tipo di rettile che porta fortuna, per me è una lucertolina, a me hanno sempre portato fortuna, quindi quando mi esce questo nelle stese sono sempre rassicurate. Se poi pensiamo che abbiamo anche una protezione dall'alto che abbiamo sempre, però questa settimana riusciremo a sentirla maggiormente, beh con questo io direi che possiamo affrontare questo ultimo step verso, adesso alla perfezione, io vi auguro di trovarla, però è difficile insomma, ma perché no, puntiamo a quello e probabilmente ci arriveremo, prima o poi. Allora, per chi ha scelto la pietra bianca, è una settimana in cui vi dovete mettere in gioco, ma solo per l'ultimo pezzettino, quindi fatelo, vedrete che poi sarete felici questa settimana, vi avvicinate al periodo delle vacanze con un bel sorriso e sentendovi amate. Per quanto mi riguarda la stesa finisce qui, metti mai, no? Ormai abbiamo detto tutto ed è tutto come volevamo, quindi se vi è piaciuto il video mettete il like, attivate le notifiche prima, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, vi aspetto su Instagram per l'oroscopo segno per segno con l'ora clojè e vi aspetto anche su cartomantic.com se volete anche per iscrivervi ai corsi, ricordatevi che c'è quello di giovedì per lettura sincronica, le norme e tarocchi. Io con questo vi ringrazio, vi saluto, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi auguro buona domenica e buona settimana e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti. Allora, passiamo adesso alla pietra rossa per chi ha scelto questa variante, naturalmente, come sempre introduciamo la lettura andando a vedere Ergy e cosiddette di riporto, bruttissimo, sembra che stiamo parlando di riporto di capelli, però insomma è così. A me viene in mente quando si facevano, ancora adesso, insomma, le sottrazioni e le addizioni, porto uno, porto due, ecco, l'idea è un po' questa, no? Quello che ci portiamo dietro da lì e che ancora ci può condizionare, perché magari ci portiamo altre cose che in questa settimana non ci condizioneranno. Pace, oh, oh, quindi qui siamo, diciamo, sotto l'influsso ancora di pace che abbiamo ottenuto la settimana scorsa. Ho detto ottenuto non a caso, perché la pace, per ottenerla, richiede sempre un bello sforzo, sperando che non sia uno sforzo, insomma, di guerra, di conflitto, però per arrivare alla pace, come minimo, dobbiamo fare leva su noi stessi e già quello è un bel lavoretto, insomma, non è proprio uno scherzo. Però poi quando si arriva, ecco qua cosa abbiamo, è uno, è già sorrido, questa è volata, vediamo chi ha scelto la pietra rossa, questa pace è tanto desiderata da tutti, non solo da chi ha scelto questa variante, che cosa porterà? Il lasciare andare, ma non c'è pace più grande di lasciare andare, però qua c'è il sogno, diciamo, la fantasticheria, però questo è un sogno volto all'indietro. Di fatti, non lo dico, di fatti è un set di coppe, è un po' il ricordo, no? Non dico la nostalgia, perché queste sono energie comunque che prendono spunto dai tarocchi, ma ne fanno un uso decisamente, insomma, un pochino più, non più elevato, ma diverso, no? Però qua c'è voi che guardate all'indietro, ma qui c'è un lasciare andare e questa pace, secondo me, dovrebbe durare. Adesso usciranno cose terribili, perché io sempre sono così, no? Dico le cose, poi escono le carte che mi contraddico. D'altra parte, se si potesse fare senza, noi siamo qua proprio anche per farci magari smentire, per trovare qual è l'inghippo, per poter proseguire meglio. Quindi ascoltiamo, prendiamo una lama dei tarocchi. Questa energia, come dire, lunare di studio, di meditazione, di incubazione, anche un po', se vogliamo, un po' pesantina, un po' pedante, no? Eh, con questa pace mi fa proprio pensare che è stata, ed è una pace che state cercando di perfezionare, di raggiungere. Probabilmente abbiamo lasciato andare o lasceremo andare qualche cosa che, però, insomma, il distacco è un po' difficile, ciononostante al suo bel perché. Quindi qui stiamo riflettendo sul lasciamo andare o no. Ecco, come dire, magari sì. Vediamo, uff, queste sono troppe, soprattutto sono dovute a imbranataggine. Rifacciamo, ho preso il mazzo e ricominciamo. Perché va bene tutto, ma se me ne esce metà. Allora, vediamo un pochino qual è la carta da qui che ci suggerisce come proseguire nelle interpretazioni di queste energie. Allora, sei di fuoco, eh? Qui si avanza. Buone notizie, vittoria, riconoscimenti pubblici o premi, addirittura. Quindi, mi dice questa sequenza che se lasciamo andare qualcosa, pur con questo lasciare andare che è frutto di, insomma, qualche riflessione, magari più di una e magari anche una certa dose di, non di sofferenza, ma di sforzo, qua si avanza. D'altra parte, lo sappiamo tutti che è così. È inutile che ci nascondiamo, no? Lo sappiamo. Vediamo. Ah, accettazione. Tac. No. Farsene una ragione di qualche cosa. Decidere che è il momento di andare avanti. Capire che restare attaccati a qualcosa, anche se ci sembra che non riusciamo proprio a lasciare andare, ma restare attaccati a qualcosa di sbagliato è sbagliato. O più che sbagliato, per me non esiste il giusto sbagliato, soprattutto se parliamo di sentimenti o anche di situazioni, ma non è la cosa migliore per noi in questo momento. Quindi qua si tratta proprio di lasciare fluire delle energie che al momento sembrano bloccate, nonostante questa pace. Fortune. E quindi qua le cose vanno decisamente per il meglio. Ricordo che questa è una fortuna intesa più come fatto, non come cosa fortunata. Quindi è un po' tipo antichi, tipo come gli antichi, no? Quindi l'alterna fortuna dipende un po' da come noi decidiamo di affrontare le cose. Certamente qui c'è la possibilità, l'opportunità, lasciando andare qualcosa che secondo me abbiamo già lasciato andare. La pace c'è, però c'è qualche resistenza ancora e questa energia della papessa ci dice che siamo ancora lì un po' attaccati. Se riusciamo ad andare a lasciare qua, con questa accettazione, le cose vanno meglio, decisamente meglio. Vediamo, vediamo che cosa ci dicono qui. Per adesso siamo in un campo molto generale e anche con la nostra prima frase, come sapete, siamo nel generico. Beh, insomma, qui c'è veramente la soluzione di qualche cosa a noi molto familiare, ma soprattutto va bene, può essere soluzione di questioni familiari in senso letterale, ma come sapete quando guardiamo il taglio può essere anche questa comfort zone che viene rappresentata dalla casa, quindi tutto ciò che ci rende a nostro, ci mette a nostro agio, finalmente qui c'è proprio la possibilità di risolvere ciò che ancora ci tiene lontani da questa sensazione che è così bella, di non doverci sempre preoccupare di che cosa ci aspetta o di se facciamo bene o se facciamo male. Qui è proprio una settimana, direi, risolutiva, sicuramente per questioni legate alla famiglia, ma in senso più lato risolutiva per proseguire questa pace, per darcela completamente. Vediamo. E siamo al centro di questa stesa, siamo siete, anche qui lo dico, a costo di farmi tirare le patate, perché lo dico sempre, però a tutti voi, chiunque voi siate, siete rappresentati da questa carta. È anch'io che mi metto a parlare di cose generiche, poi sappiamo, sappiamo che poi qua si parla di, prima di tutto, di amore. Allora, parlavamo di lasciare andare e guarda un po'. Qui si parte da una situazione bloccata che ha la possibilità di rimettersi in sesto. Inutile dire che se parliamo di amore questo è un tradimento che sta tra voi e l'altra persona, che però poi è seguita da questa carta dell'albero. Allora, adesso approfondiremo, cercheremo collegamenti, se ci saranno, come mi auguro, anche per gli altri settori, però qua è evidente che c'è la possibilità di, sì, fare pace o comunque metterci in pace con la persona del nostro cuore, ma non riusciamo a mettere via che c'è stato un tradimento. Non riusciamo a mettere via quello che c'è stato. Nella migliore, non so se migliore delle ipotesi, nell'alternativa, diciamo, può essere anche semplicemente un blocco che c'è stato, perché comunque abbiamo la montagna tra voi, che anche se non è un tradimento, però è qualcosa di molto serio. Queste sono intromissioni, pettegolezzi, gelosia e anche un uso magari poco corretto della parola, quindi magari questa stessa persona, magari voi avete ceduto nell'esprimervi e quindi si sono creati degli attriti. Qui, questa energia, fino a qui, proprio non volete lasciare andare, avrete sicuramente i vostri motivi, però qua ci dice che la soluzione è comunque nell'aria, se lo desiderate. Certo che qui comunque quello che è successo, se parliamo di amore, non è uno scherzetto, qui non è uno scherzetto. Non è, secondo me, poi magari sì, ma qualcosa di leggero. In ogni caso quello che è successo su di voi ha lasciato un segno forte, una ferita forte, quindi a questo punto è tutto relativo, leggero non leggero. Su di voi ha avuto un effetto tale, per cui nonostante questo grande, questo rimpianto, vedete, questo desiderio di ripristinare le cose, qui c'è proprio un nodo che non riusciamo a sciogliere, difatti è l'accettazione, il nodo, quello che ci è stato dato da questa carta, da questo mazzo. Vediamo un po' come andrà. Chiaro che poi vedremo anche per il lavoro, se ve ne importa qualcosa. Io spero di sì. Allora, siete qui sotto vuoto, posso dirlo? Qua disponibilità. Non sapete neanche voi che cosa vorreste dall'altra persona, perché sembra che non basti nulla, anche se vi dicesse cosa che forse ha detto, che è disperatamente pentito. Guardate questo sentimento voi come lo vivete, come irrimediabilmente rovinato, irrimediabilmente tradito. Sì, proviamoci, va. Eppure qui c'è tanto desiderio. Ecco, è l'altra persona che vi viene a cercare, voi lo vedete. Bene, allora, cerchiamo di riordinare le cose. Certo che siete un bel contrastino, voi come voi stessi, non con l'altra persona. Guardate come iniziamo la settimana, con questa ancora che è proprio la permanenza in uno stato di amore, di benessere con l'altra persona. Eccola là perché c'era la casa, cioè la sentite proprio come quella persona che vi ha fatto star bene, che vi fa star bene, che è tutto, perché l'ancora è stabilità, è tutto. Quando si sta con una persona senza dover pensare troppo, in contrasto con questa montagna, come per dire basta, è un ostacolo. Anzi, i ricordi di come siete stati per voi è un ostacolo. Quindi è il ricordo sia di quanto è accaduto tra di voi, sia i bei ricordi vi danno quasi sui nervi, perché di fatti, nonostante qui ci sia già dall'inizio di settimana questo desiderio di chiarire, che poi diventerà sempre più forte da parte dell'altra persona, al punto che poi sarà lui o lei a prendere la situazione in mano. Anche i bei ricordi vi pesano come un macigno. Questo è un inizio di settimana in cui non state tanto bene, nel senso se per voi è un'energia come quella della papessa, di una persona che si proibisce di intenerirsi. Ecco, questo è proprio quello che abbiamo nella prima parte della settimana, o comunque come inizio di flusso di questa energia. Perché avete scelto di chiudervi? La bara non è una chiusura così, non è una torre dove siete arroccati, ma prima o poi da qualche parte si riesce a scalare, forse. La bara è io non voglio ricordare nulla di bello, non voglio sentire nulla di nuovo, non voglio soffrire un'altra volta. Addirittura qualcuno può dire è stato tutto finto, cioè io credevo che fosse vero amore, evidentemente è stata una fregatura, mi sono presa una sciabolata, non voglio sentire parlare di niente. Eppure qui le intenzioni sono proprio quelle di andare a chiarire. Che cosa può essere? Allora, ve lo dico, il candidato number one di questa cosa è un tradimento occasionale, non ci vuole uno scienziato per capirlo, che a voi fa ancora più male proprio perché è stato occasionale, vi dà proprio fastidio nell'anima, diciamo come si fa ad aver rovinato una cosa del genere con una stupidata come questa. Proprio perché è occasionale all'altra persona sembra più leggera, quindi giù ancora conflitti e non vi trovate neanche su questo. Dovete, se volete, accettare questa cosa. Certamente questa è una settimana in cui l'altro o l'altra vi verranno sempre più insistentemente a cercare per chiarire e per ripristinare quello che c'era. Come potete vedere le prospettive di riuscita sono ottime perché qua abbiamo l'albero con l'orso, quindi c'è una crescita ulteriore di questa connessione che avete, quindi certamente è un bel carico di energia che dovrebbe contrastare queste qui, è ovvio che come già preannunciato dalle energie che abbiamo preso all'inizio della stesa, è tutto in mano vostra. Quindi ciò che maggior pace vi dà, ciò che più vi fa sentire con quella chiave causa, vi fa più sentire a vostro agio, questo riuscirete ad ottenere. Ma in ogni caso con la certezza, sempre che vi crediate o le crediate che l'altra persona desidera tornare, questa volta è pentito, perché non è che sono sempre pentiti, magari lo dicono e poi ci si gira 5 minuti e si ricomincia. Questa è una persona che ha capito la stupidata che ha fatto. Seconda opzione, che non sia un tradimento occasionale, ripeto occasionale, qua non è scoprite che avevo una storia da 8 anni con un'altra persona, che è un tradimento occasionale. Oppure, ahimè, pettegolezzi o cose spiacevoli sul vostro conto che ha detto questa persona a qualcuno. O magari ha rivelato qualcosa che voi pensavate fosse un segreto tra voi due. Cioè, la serpe, però sempre con quel desiderio di farsi bello, farsi bella, che è proprio quello che non riuscite a perdonare. La leggerezza, la vanità, questo proprio per voi, in questo periodo, pur soffrendo e pur appunto, quando magari dormite, rimpiangendo nel sonno quello che è stato, quando siete vigili vi state impedendo anche di ricordare i momenti belli, perché vi state convincendo che è stato tutto finto. Quindi qui non è uno scherzetto. Diciamo che per chi di voi avrà voglia di lasciare andare, lasciare correre, lasciare andare proprio, lasciare superare questa cosa. Sappiate che le intenzioni di questa persona sono sincere. Quindi, se volete, se sentite che state meglio, potete dare una seconda possibilità. Naturalmente, se siete singole, questo riguarda una persona con cui evidentemente il diverbio è accaduto prima che poteste diventare una coppia, qua stiamo parlando magari di cose dette, o magari anche eravate tanto così da finalmente diventare una coppia, avete scoperto che proprio quella sera è andato con un altro o con un'altra. Quindi dovete rileggervi quello che c'è stato tra voi e questo è lo sforzo che vi viene richiesto, perché adesso state così. Se decidete di dare una chance, sicuramente un'altra fregatura, almeno a tempi brevi, diciamo non ve la prendete perché le intenzioni sono sincere di questa persona. Non resta molto da dire per l'amore, anche perché mi sembra che la situazione sia ben delineata. Faccio presente se avete questo tipo di problema, ovviamente declinato con qualche differenza, con un parente o con un amico, 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 a parte che per me uno è amico o no, se no è conoscente, però quegli amici proprio che sono come parenti o molto spesso molto meglio dei parenti, anche qui ovviamente qua stiamo parlando di pettegolezzi, di cose dette, di segreti divulgati, di cose che vi hanno fatto male perché pensavate che facesse parte del vostro mondo con questa persona e invece qui sono state magari anche un po' strumentalizzate. Qui c'è proprio il tornare a Canossa, il venirvi a chiedere scusa, venire a chiarire, venirvi a dire come mai è successo questo. Stesso scenario sta a voi, farà una fatica bestiale in caso a convincere, ma questo anche per l'amore e vedete che cosa evidentemente vi fa stare meglio e decidete di conseguenza. Come potete immaginare sono soluzioni che riguardano il vostro stare bene, questa era la principale interpretazione del taglio, non sottovalutiamo comunque anche l'aspetto letterale, potevano essere le chiavi di casa, abbiamo chiave e casa, allora diciamo che qui come chiave di casa qua la situazione è leggermente diversa, nel senso che qua potrebbe esserci una proposta che vi arriva sia per comprarla sia per venderla proprio in una trattativa che voi consideravate chiusa. Naturalmente qui vedete che questa papessa a me piace un sacco perché ha il portatile sulle ginocchia, perché noi siamo avanti, comunque vi state facendo bene i vostri conti, qua vi arriva una proposta finalmente ripulita da quegli inghippi che evidentemente avevate riscontrato nella prima versione che avevano fatto allontanare. Questo sia che la stiate vendendo, sia che la stiate comprando, sia che si decida per un affitto, per una casa di vacanza, anzi molto può essere una casa di vacanza, una casa magari che pensavate di mettere su pian piano, ecco, a cui tenevate molto, avevate già messo il sogno nel cassetto. C'è questa possibilità. Se invece andiamo a guardare per il lavoro, beh qui non è difficile insomma, qui vi ritenete che vi siano proprio state voltate le spalle, probabilmente su un progetto o su una mansione, perché non è che sono solo progetti che vi era stata affidata, nella quale avevate messo molto impegno, qua purtroppo temo che vi sia stato preferito qualcun altro da far avanzare, nonostante voi non meritaste di più. Quindi qua c'è veramente da andare, c'è, voi non andate, voi vi siete veramente chiusi a riccio, probabilmente sul vostro lavoro in questa settimana, all'inizio di questa settimana non renderete volutamente il dovuto, qui è proprio un rinchiudersi a dire ok, allora visto che non valgo, fate senza di me, faccio giusto il minimo che mi viene richiesto e a farsi benedire tutti gli altri. Qui parliamo anche però di un venirvi a riprendere come un repeshage per parlare con voi, non sarà facile, probabilmente in questo scenario prenderanno piede anche degli intermediari, delle persone che cercheranno di chiarire come mai sia successa questa cosa, questa cosa purtroppo è successa sempre perché qualcuno ha avuto la lingua più lunga della vostra e ha fatto girare le cose a suo favore, capitano queste cose, però come vedete concludiamo la settimana, ripeto, trattandosi di lavoro dubito che queste trattative possano come dice qui concludersi tra sabato e domenica, quindi restringiamo un attimo, shrink, facciamo la settimana corta per quanto riguarda il lavoro e qui c'è addirittura l'albero, quindi il benessere ma anche la risoluzione un po' delle cose ma abbiamo anche una crescita finanziaria, quindi qui viene comunque annunciato che forse non subito ma si porrà rimedio a quello che ingiustamente non vi è stato riconosciuto. Secondo me molti di voi hanno già il piede da un'altra parte, qui c'è veramente una chiusura, ecco vi ripeto non è detto che voi accettiate questa cosa, la prenderete un po' come un contentino, siete veramente seccati, sfiduciati, demotivati, ma non fessi, quindi siccome qui c'è il lasciare andare e la fortuna che dipende proprio da voi, se non l'avete ancora fatto, ma io credo la maggior parte di voi l'ha già fatto da un pezzo, siete già con la testa e i piedi altrove, se non l'avete ancora fatto vi consiglio perlomeno di considerare un'alternativa se vi è possibile, se non ce l'avete comunque ampliate l'orizzonte, a volte anche solo pensare di poter andare altrove, la cosiddetta via di fuga vi rende più lucide, soprattutto qua scusate ma voi siete e dovete restare giustamente intransigenti, non è una cosa ovviamente che ho consigliato per quanto riguarda l'amore perché insomma quella è una scelta proprio che dipende da che cosa è veramente successo, è molto più emozionale, il lavoro chiaramente per quanto le emozioni magari a volte giochino però dovete fare anche dei calcoli vostri, certamente qua vi viene rilanciato qualcosa anche a livello finanziario, io adesso vorrei vedere questa bara che avete su che cosa la può aprire perché è bello dire apritevi fate però cerchiamo di capire se magari abbiamo un consiglio che arriva da qualche altra parte, porca miseria se siete incavolati ragazzi, mamma mia, no che non c'è un consiglio perché temo che quello che è successo voi l'abbiate sentita arrivare questa cosa, mamma mia, solo questa persona ha il potere di trovare il tasto giusto, e non lo vedo messo bene, porca, diciamo che se becca perché questo è se becca il tasto giusto allora come si diceva fortuna, ce l'abbiamo anche qua guardate che cosa impressionante è andata a riprendersi praticamente questo nucleo che avevamo verso la fine della settimana, allora la decisione in mano vostra la capacità ovviamente persuasiva è in mano dell'altro o dell'altra, se siete nell'umore giusto, se becca il momento giusto e se trova il punto giusto su cui operare allora ha delle possibilità, altrimenti questa bara secondo me se anche questo stato d'animo fosse destinato ad aprirsi, qui avrà da lavorare almeno per un altro due settimane, e beh d'altra parte insomma se vi siete arrabbiati, vediamo sto povero disgraziato, cioè non è che io parteggio per i fedi fragoi, però tutto questo sforzo deve essere stato veramente, guardate il taglio, urca, come dire che lo aspettano dei tempi tosti, dovrà da fare sfoggio, allora abbiamo, l'altro è il cavaliere, e qui abbiamo il cavaliere, allora dovrà combattere parecchio per dimostrare questo amore, ci saranno delle discussioni, deve stare molto attento, o attenta che queste discussioni non diventino come dicevo troppo accese, perché sennò qua voi dite ma che vuoi da me, non sono venuto a cercarti, non sono qua per chiederti spiegazioni, sei tu che sei venuto da me, e litighi anche, alzi la voce, ciao, cioè questo o questa sta camminando sulle uova, quindi deve stare molto ma molto ma molto attenti, ripeto l'esito dipende da voi, la missione è tutta sua, perché voi adesso proprio siete in un periodo di rifiuto totale, totale, allora andiamo a vedere quali sono le energie su cui ci si consiglia di concentrare, sempre con un taglio, vediamo che cosa ci dice qui, alchimia, è certo ma qui c'è, ma voi non volete sentirla neanche più, allora questa frequenza attiva la nostra capacità, e il ricordo della magia che abbiamo dentro di noi, quindi tutti noi abbiamo il potere, la capacità di attingere a questa cosa, ma dobbiamo permettercelo, ed è esattamente, guardate che cosa impressionante, quello che è uscito qua, quando io dicevo non volete neanche ricordare ciò che c'è stato di bello e se lo ricordate vi state convincendo che era tutto finto, beh, quindi è una vostra scelta, se fate appello a questa cosa, a questo tipo di energia, sappiate che poi le cose vanno bene, ma anche questa è una scelta, no, come tutto, allora mischiamoli bene questi, urca quanti, allora sul fatto che l'amore ci sia non stiamo a discutere, guardate, la fedeltà anche, la passione anche, abbiamo anche però questo maledetto elemento lunare dentro di voi, maledetto, giusto, comprensibile, però che blocca un po' le cose, e voi questo, allora anche se è stato un tradimento, comunque ci sono stati anche pettegolezzi, cose a voi questa cosa non va bene, per niente, vi confermo l'elemento orso, per quanto riguarda tutto il finale di qualunque storia, qua ci siamo soffermati a raccontare, perché qui c'è veramente la possibilità di una crescita personale, finanziaria, insomma, a seconda di quello che ci siamo detti, qui abbiamo, guardate, ne farà di tentativi, soprattutto per quanto riguarda l'amore, ne farà tanti di tentativi, cercherà veramente un po' di addolcirvi da tutte le parti, è un lavoro duro che l'aspetta, però se posso, non voglio forzare nessuno, come vi dicevo, questa è una persona che almeno al momento sta agendo in sincerità, voi dovete solo liberarvi di tutto lo sporco che vi sentite addosso, di tutto questo brutto strato di malcontento, di delusione, di tutto quello che vi ha lasciato questa storia, non è una cosa facile, ecco perché questa stesa dice che dipende da voi, che in questo momento siete proprio la papessa, beh, insomma, se per caso doveste riuscire a spogliarvi di tutta questa brutta sensazione, sappiate che poi c'è la possibilità di ripresa, non ci riuscite, vuol dire che in questo momento per voi è meglio restare in questa energia, certo, vi dice, magari più avanti può ancora andare meglio, perché qui c'è amore e c'è soprattutto desiderio di insistere e per riprovarci, va bene, allora, per chi, va bene, insomma, va meglio per voi che per l'altra persona, per chi ha scelto questa variante, la stesa finisce qui, come sempre io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e comunque a mettere il like, vi aspetto su Instagram per la stesa settimanale segno per segno con l'ora Clegete, vi aspetto anche se lo volete iscritti al nostro corso, in collaborazione con il Salato dei Tarocchi giovedì, per imparare a leggere le Lenormone insieme ai Tarocchi e quindi saperne delle belle, naturalmente, come sempre, vi auguro buona domenica, buona settimana, vi faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic, ciao a tutti! Eccoci per chi ha scelto la Pietra Viola, andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 28 giugno al 4 di luglio, andiamo, come sempre, partiamo dalle energie che ci portiamo dietro, comunque la sensazione che ci sta accompagnando dalla settimana che finisce e poi andiamo a controllare anche tutto il resto, vediamo, allora, sinfonia incompiuta, sembra proprio che qui sia, lo dico, ma sono un po' un punto in comune, un po' con tutti, ma io lo dico sempre che faccio le varianti, ma c'è sempre comunque un filo conduttore che unisce l'energia delle tre varianti, perché comunque le energie generali sono quelle, e poi naturalmente possono avere risvolti leggermente diversi da una variante all'altra, diciamo che magari livelli diversi, in questo caso di sinfonie, quindi tonalità diverse, o di pace, o di rassegnazione, insomma, possono avere intensità diverse, ma l'energia di base, quella è, allora, le possibilità, e certo, se è incompiuta, se è incompiuta, ce ne sono di possibilità per compiere questa sinfonia, mannaggia, quando invece è così comodo, quando non ci sono possibilità, o ce ne sono due, o di qua, o di là, qui, no, e d'altra parte il bello dell'universo, è che non è univoco, abbiamo tante scelte, vediamo, quindi qui è una settimana che inizia con un tantinello di indecisioni, di incertezze, speriamo tra cose belle, certo che se la sinfonia è incompiuta, sarebbe meglio che invece si compisse, oh, un po' di sano spirito, di iniziativa, speriamo sano, però qua è, secondo me, il modo migliore per uscire dal dubbio, il modo migliore per cercare di terminarla, questa sinfonia, ci sono tante possibilità, come le possibilità che ha il bagatto sul tavolo, qua non è il tavolo, però sapete che il bagatto ha i quattro simboli degli arcani minori, quindi qua abbiamo bastone, coppe, spade e denari, in questo caso io li vedo proprio come queste possibilità che dobbiamo valutare, e però poi alla fine il bagatto sceglie, certo, sceglie non è una persona super matura, magari anche un pochino così svirgolata, però alla fine da qualche parte bisogna andare, quindi qui comunque c'è la possibilità di una scelta, e questo mi rassicura, qua mettiamo la pietra viola, sperando di ricordarmi, magari questi li mischiamo a diritto, così, è sempre una bella cosa, uno è volato fuori, beh, insomma, non mi lamenterei, anche se, insomma, è abbastanza comprensibile, io inizio a pensare che sia, uff, un segno del perché questa sinfonia è incompiuta, questo dieci di fuoco che dice, accetta la guarigione dagli altri, cioè, fatta aiuta perché questo bagatto da solo, temo che c'è uno squilibrio nella tua vita, certo, lo sappiamo, allora, problemi legati allo stress, allora, uno stress che viene appunto da questa sinfonia da compiere, quindi c'è da prendere una decisione, però quello che genera lo stress non è il decidere, ma avere troppe possibilità, quando sono troppe ci si sente veramente sotto pressione, perché aumenta la possibilità di sbagliare, questo almeno è di solito come la vivo io, in quei casi cosa faccio? Bagatto, da qualche parte devo andare, certo, prima si considera un po' tutto, però, alla fine, quella che ci attira maggiormente, dopo aver ragionato, sarà quella giusta, almeno assecondiamo la nostra inclinazione, qui abbiamo la sacerdotezza, quindi, segui il tuo intuito, sii paziente, rifletti attentamente su ciò che vuoi prima di agire, credo che qui abbiate già riflettuto abbastanza, visto come entrate in questa settimana, quindi io vi direi, ok, riflettete, ma non credo che ci sia bisogno di dirlo con una stesa, però poi alla fine l'intuito è un po' l'elemento che vi farà prendere la decisione migliore, quindi, iniziativa sì, un'iniziativa che, sì, facciamoci pure aiutare dagli altri, con qualche consiglio, ma che poi sarà nostra, sulla base del nostro intuito, che ci viene consigliato di seguire, apprezzamento, bene, questa sapete è solo la parola chiave, e la mettiamo qui, andiamo a considerare, anche, il possibile blocco o punto di forza, senza far cadere le piccoline, ok, allora, forgiveness, perdonare, essere aperti al perdono, è impressionante come, in un certo senso, per alcune cose, queste estese, abbiano questo punto, due anzi, in comune, uno, quanto tutto ciò, che si deve risolvere, sia in mano vostra, soprattutto, in mano di, delle scelte che farete, in merito a perdonare, non perdonare, e come, questo possa, la scelta, possa poi dare, un nuovo sprint, al vostro futuro, ed è una bella cosa, chiaramente, ok, andiamo a vedere, questa settimana, come sarà, perché ha scelto, la pietra viola, cosa abbiamo al taglio, vado, allora, possibilità, possibilità, qui stiamo partendo, da una relazione, che si è rotta, da un contratto, che si è spezzato, da un'amicizia, che è andata a farsi benedire, se posso dire anche, da, sentirsi, abbandonati, dalla fortuna, ma soprattutto, questa, ci parla, allora, se andiamo a vedere, il valore, di questo anello, è il compimento, no? Che non c'è stato, è stato interrotto, quindi, altro che, se questa stesa, sta venendo fuori, con il massimo, del massimo, vediamo un po', mi verrebbe da dire, di cosa, ah, ecco, di che cosa vi lamentate, perché qui, se no, cioè, ah, ah, dunque, innanzitutto, ci sarà molto da dire, per il lavoro, qui, chi, chi lavora, cioè, per quanto riguarda, il lavoro, questa è, una settimana, in cui, mettete, in campo, la vostra esperienza, chi sta, o ha, da poco aperto un'attività, o la sta per aprire, qua, veramente, farà ricorso, alle persone amiche, di cui si fida, anche, magari, soci, cioè, cercare società, e qua, c'è uno sviluppo, incredibile, probabilmente, anche qui, dovrete operare, delle scelte, però, andremo a vedere, di che tipo, e come vi creano, magari, qualche, così, qualche incertezza, perché, per adesso, qua, è qualcosa, che, è ancora incompiuto, perché, è, in fase embrionale, all'inizio della settimana, questa è una sinfonia, che si compie bene, per tutto quello, che riguarda, il lavoro autonomo, le imprese, le iniziative, ma, anche, le cose, cioè, io, quando parlo, di lavoro autonomo, chiaramente, si pensa sempre, a professionisti, o, magari, commercianti, cioè, cose strutturate, qui, attenzione, qui si può parlare, anche, di secondo lavoro, perché ci piace di più, o, magari, un'attività artigianale, o, artistica, che, mettiamo, accanto al lavoro, che già facciamo, no, tutto quello, che ci fa sognare, tutto quello, che abbiamo lasciato, da parte, perché eravamo presi, da altri, problemi, o, da altri impegni, questa è la settimana, in cui, guardate, tirate fuori, veramente, il coniglio, dal cilindro, e, vi rimettete in gioco, ed è veramente, una cosa molto bella, è qualcosa, che era rimasto incompiuto, ecco perché, e, vi mettete, probabilmente, insieme a qualcuno, o, aiutate, vi fate aiutare da qualcuno, non è detto, appunto, che sia, la vostra principale attività, se lo è, è, finalmente, qui, il compimento, qua, parte, o siete già partiti, e, iniziamo a avere, i primi risultati, oppure, state partendo, questa settimana, questa è la settimana, in cui, altro che se si compie, le decisioni, che dovete prendere, in questo caso, sono di tipo, burocratico, amministrativo, le prendete, e, qua, per il lavoro, io direi che, adesso andiamo a vedere, perché non esiste solo, chi, lavora per i fatti propri, c'è anche il lavoro dipendente, c'è anche chi il lavoro, non ce l'ha, però, già vi dico, che con delle carte così, il problema, saranno le possibilità, come sempre, che ci saranno, ma alcune, vi attireranno, per un verso, e altre, per un altro, direte, ma adesso si parla solo di lavoro, ma certo che no, certo che no, dite che non avete, già indovinato, su, no, non è il ritorno, nel senso, che non è, eh, qualcuno, da cui ci siamo separati malamente, che torna, eh, chiedendo scusa, però qua, eh, salta fuori qualcuno, da lontano, eh, vediamo, eh, eh, mamma mia, mamma mia, ecco qua, visto, è proprio la sinfonia, incompiuta qui, che si rinnova, alle, allora, quindi, qualunque cosa, scusatemi, io quando vedo queste cose, divento subito, in preda agli entusiasmi, dunque, finiamo il discorso lavoro, perché abbiamo iniziato così, e non è bello lasciarlo a metà, eh, qui io vi confermo, che è qualcosa, che, eh, fa parte di voi, quindi, eh, sono sempre più propensa a dire, e dai, ecco, sempre più propensa a dire, che si tratti di qualche cosa, che a seconda della vostra vena creativa, o la vostra vena indipendente, quindi, sì, il lavoro, riprende un po' per tutti, diciamo che è in un momento d'oro, un po' per tutti questa settimana, tra alti e bassi, tra magari qualcosa che sembra bloccarsi, eh, la considerazione, eh, di qualcuno che potrebbe affiancarvi, con cui, secondo me, ci sarà da discutere, magari, all'inizio della settimana, però sono sempre discussioni tranquille, discussioni nel senso di confronti, eh, potreste, eh, avere anche qualcuno che sembra che si voglia tirare indietro, quindi, eh, vi dispiacerà questa cosa, ma poi, secondo me, si risolve pure quella, eh, quando, mh, ho detto che appunto, non tutti i lavori devono essere da imprenditori, vero, certo, qui c'è anche, perché lo vedevamo nella prima stesa, la possibilità di, eh, come dire, migliorare la propria posizione, anche se avete un lavoro di dipendente, o se non l'avete, però qua, eh, secondo me, è per tutti, per chi ha già un lavoro, per chi non ce l'ha, per chi lo sta cercando, per chi lo vuole cambiare, questa è una cosa, in più, cioè, o è la vostra attività principale, questa che fa, appunto, appella alla vostra vena creativa, il vostro sogno, lo state realizzando, allora, questa è la settimana, in cui, diciamo, esplodete, in senso positivo, evidentemente, perché qui c'è stato un momento di crisi, eh, se è così, che vi ha fatto dubitare, di quello che stavate facendo, vi ha fatto dubitare, dei consigli ricevuti, avrò fatto bene, avrò fatto male, era meglio se non lo facevo, ecco, questa è la settimana, in cui avrò fatto bene, in cui avrete delle cosiddette belle conferme, e come vedete, qui, qualcosa che sembrava, o incompiuto, o immaturo, questa impresa, alla fine, essendo, questa la carta del lavoro, si riprende, è vero anche, però, che non mi sarei accontentata, perché questo è il lavoro in generale, quindi, ma qui abbiamo proprio, la libera professione, e soprattutto, tutto ciò che fa appello, alle nostre passioni, quindi, io qua vedo soprattutto, un'attività di questo genere, e quindi, ben può essere, un'attività che, se abbiamo un lavoro dipendente, dall'altra parte, affianchiamo, può essere che avete, non so, la passione, del punto croce, dei modellini, o, boh, qualunque cosa, che vi piaccia, qui c'è la possibilità, di monetizzarla, ricordatevi, che si dice, chiedete, magari, qualche consiglio, ecco, potrebbe essere, accetta, la guarigione, dagli amici, qui non è che dovete guarire, qui dovete avere, il coraggio di fare il salto, perché comunque, un bel impiego, anche di tempo, ma, pur con qualcuno, che magari, vi cercherà di trattenere, alla fine, qui, sentite che è la vostra strada, quindi, magari, di giorno, lavorate, come contabile, in un ufficio, e, alla sera, fate, non lo so, decoupage, però, monetizzate, ecco, questa è una settimana, in cui, andate a chiudere, una cosa, che avevate lasciato, in sospeso, e che vi dà, proprio, questa giornata, ma anche, questa produttività, io non escluderei, che per come sta andando, come un treno, perché vedete, che qui, sole ancora, cioè, proprio, è veramente, quello che volete fare, anche se, anche se, forse, non è, proprio, compreso da tutti, io non escludo, che poi, questa possa diventare, un'entrata, ben più consistente, in futuro, eh, potrebbe essere, qualcosa, che avete iniziato a fare, magari, con più, come dire, più consistenza, durante il lockdown, qualunque cosa sia, voi sapete cos'è, e se c'è questa possibilità, questa settimana, avrete proprio la possibilità, di buttarvi, e, crescere, crescere, allora, per quanto riguarda, invece, passiamo all'amore, perché se no, qua, chiudete, e non mi ascoltate più, perché io lo so, non scherzo, però, è normale, no? Qui abbiamo, un irrisolto, con qualcuno, non c'è dubbio, qui abbiamo una storia, che non è nata, o una storia, che non è, andata in porto, mettiamola così, o meglio, forse, non come avreste voluto voi, non si è, concretizzata, come avreste desiderato, eppure, voi, qua, avete, oltretutto, questa persona, che non è che si è, allontanata, volontariamente, o c'è stato, un allontanamento, dovuto a cause, esterne, oppure, semplicemente, la cosa si è, raffreddata, un po', ma, questa persona, è sempre lì, quindi, adesso, qual è il problema? Che, o voi, o questa persona, siete impegnati, e quindi, sentite che, le cose, si stanno mettendo, complicate, è una persona, che torna, alla vostra, possibilità, di frequentazione, quando dico, è sempre stato lì, è sempre stata, stata o stato lì, nella vostra testa, nella sua testa, nel cuore, però, qua, come si dice, ci avevate messo, una pietra sopra, insomma, torna questa persona, io dico, secondo me, è questa persona, essere impegnata, però, è talmente forte, qua, l'attrazione, che provate, che qui, veramente, penso che, ve la sentirete, nonostante, cercherete, di, temporeggiare, come vi dico, qua, alla fine, sentite voi stessi, che non si può più, girare la faccia, dall'altra parte, e valuterete, la possibilità, di intraprendere, una relazione, con questa persona, perché, perché questa, è la persona, che in passato, vi ha fatto stare, così, e nessun altro, vi ha più fatto stare, così, nessuna, altra persona, sentivate, di aver trovato, la felicità, quella, quella giusta, mi, eh, astengo, da fare commenti, o considerazioni, in merito, se, l'anima gemella, la fiamma gemella, mi interessa, stavate così, e, volete, tornare a stare, questa persona, vi si ripresenta, un po', come una sorpresa, questa settimana, e, eh, vi incrociate, proprio, ma, subito, si ripristina, questa alchimia, poi, logico, che se anche voi, avete una relazione, questa settimana, sarà come se, eh, sparisse, cioè, non c'è il tradimento, non c'è, eh, qualcosa di, irreparabile, ma, la vostra testa, il vostro cuore, saranno fermi, a questo incontro, o a questa, magari, telefonato, o a questa richiesta, di amicizia, eh, sui social, ecco, succede, qualche cosa, che riporta, alla vostra vista, questa persona, questa persona, è, secondo me, impegnata, magari lo siete voi, eh, vi dico solo, che questa settimana, non succede niente, di, sensazionale, dal punto di vista pratico, ma avrete la testa, di un adolescemo, come li chiamo io, perché, veramente, abbiamo, delle manifestazioni, ogni tanto, così, eh, parlo per noi, insomma, di una certa età, venerabile, ogni tanto, quando succedono queste cose, ci parte, eh, proprio la viene, quindi, qua, saremo proprio con la testa su Marte, c'è poco da fare, e, vedremo come andrà avanti, perché, la fine di questa settimana, dice, che, probabilmente, ricominceremo a frequentare questa persona, in modo, consistente, e in modo, ahimè, anche, clandestino, eh, la cosa che mi fa, impressione, che qui non esiste, in nessuna, possibilità, di interpretazione, il motivo, vero, che vi ha allontanato, come vi dicevo, non c'è stato, una crisi, non c'è stato, un'altra persona, che si è intromesso, un pettegolezzo, potrebbe essere, un allontanamento fisico, tipo, che, si è trasferito, però, anche lì, eh, uno si trasferisce, però, si resta in contatto, invece, è come se fosse, evaporata, nel vostro passato, e adesso, si rimette, materializza, è proprio questo, fluidità, quasi, della materia, che mi fa, mi fa, una certa, una certa impressione, ma, l'altra cosa, è che, insomma, qui, non volete, questa volta, perdere l'occasione, forse perché avete paura, che evapore un'altra volta, la cosa vi crea, appunto, come vi dicevo, un po' di, questo famoso stress, perché non sapete bene, cosa fare, però, questa sinfonia, sentite che è da compiere, e quindi, avanti tutta, con, fatica, ma anche con, incoscienza, quindi, seguirete con istinto, vi vedo, ripeto, un po' bloccatini, vedo l'altra persona, bloccata, per motivi, tecnici, diciamo, eh, la vedo impegnata, eh, probabilmente, anche voi, certamente, temete un pochino, anche, non so bene perché, lo saprete voi, eh, il parere altrui, quindi, c'è un po' di desiderio, di chiedere consiglio, ma allo stesso tempo, anche un po' di remore, perché non volete parlare con troppe persone, eh, però, insomma, c'è poco da fare, allora, così stavate, e così volete, non volete lasciare questa opportunità, che vi sembra mandata dal destino, vi ricordo, che, nella maggior parte dei casi, naturalmente, si tratterà proprio di un, riapparire, avete presente Star Trek, ecco, appunto, eh, un caso, o, appunto, un'amicizia chiesta, su Facebook, o, trovate questa persona in strada, o venite invitate da qualche parte, e, magicamente, questa persona c'è, quindi, quando vi dicevo, non è il ritorno volontario di qualcuno, certo, chiedere l'amicizia, magari, lo è, direte voi, sì, però, non è la Roma, no, di quello che torna a cavallo, d'un cavall, perché ci ha pensato bene, vuole tornare, è una cosa che sembra in apparenza più leggera, ma che vi fa subito risentire, quel desiderio di compiere, questa benedetta sinfonia, e, di fatti, andate completamente, con la testa altrove, ve lo dico, proprio dei ragazzini, se invece siete dei ragazzini, intanto che ci fate qua, se non avete 18 anni, se ne avete 19, da lì in avanti, comunque, avrete una reazione più infantile, di quella che dovreste avere, e, dimenticherete un pochino, anche le cose del quotidiano, quindi, questo vale per tutti, attenzione a spegnere la luce, prima di uscire, a spegnere i fari della macchina, se scendete, se no non partite più, cioè, questo genere di dimenticanze, se dovete andare a pagare due bollette, ne portate dietro una sola, e l'altra vera dimenticata a casa, andiamo proprio lì, perché? Perché è tempo delle mele, cioè, ve ne andate proprio con la testa, dove volete stare, a recuperare questa sinfonia, che per voi aveva suonato così bene, ma era rimasta incompiuta, beh, insomma, come dire, non posso certo darvi torto, anzi, vi posso solo invidiare un pochettino, certo, ci sono dei problemi, di natura proprio concreta, andiamo a vedere, andiamo a vedere questa montagna, questa è evasa, e in contrasto ci va proprio, questa ripresa va a specificare la montagna, vediamo un po', come vi pisa, guardate, guardate, guardate qua, vorreste, allora, se siete impegnati, vorreste di colpo, essere liberi, mamma mia, mamma mia, ok, e qui avete paura, ci pensate tanto, ci pensate tanto, però non c'è niente a fare qua, andiamo a vedere, questa personcina, perché è afflitta da questa croce, perché è ancorato per i fatti suoi qua, e anche non infelicemente, cioè non è la persona sposata, o accoppiata con l'arpia a casa, che l'aspetta col mattarello, qui è una persona che ha una sua vita, mediamente felice, certo, probabilmente anche voi, questo incontro sballotta un po' tutti i piani, ecco perché ha questa croce, e non capisce più che cosa deve fare, eh, eh, però qua vi vuole frequentare, qua vi vuole frequentare, che vogliamo fare? le cose quando succedono, succedono sempre per un motivo, certo che qui, secondo me, è arrivata fine della settimana, che qualcosina succede, sì, qualcosina succede, perché volete proprio chiudere questo cerchio, compiere questa sinfonia, quindi, la sinfonia la compiamo, e poi vedremo che cosa sarà, eh, sarà un po' un colpo, gobbo, no? all'inizio poter dire, oh, finalmente, adesso so, è conclusa la storia, adesso, conclusa nel senso, ce l'ho fatta, eh, se voglio posso proseguire, poi vedrete, sarà lo stesso anche per l'altra persona, mancava proprio questo, passaggio nella vostra storia, poi vedremo, io non, non so se, eh, da questa stesa, sicuramente, non riesco a capire, poi, che scelte farete, sinceramente, devo dirvelo, in tutta onestà, questa non è una stesa, dove mi dice, che questa run 3 vi sconvolge, poi a lungo termine, secondo me, qua restiamo, nella, l'ambito dell'avventura, molto bella, molto poetica, quindi, non è, chissà, che, quale, sgarro, ma proprio, un chiudere, un ciclo, ma poi, secondo quello che vedo, avete tutti e due, una vita, che non volete abbandonare, però, sarà, come tornare a prima, vi dico, avete la testa, proprio, da tutt'altra parte, vediamo, qual è l'energia, qua, su cui fare, transizione, allora, la frequenza, della transizione, eh, sostiene, la nostra, profonda, conoscenza, il nostro capire, la nostra, comprensione, di come la natura umana, sia in continua, trasformazione, e quindi, dobbiamo imparare, che cosa lasciare andare, certo, però, prima, dobbiamo permettere, con facilità, e grazia, di arrenderci, ai processi, che permettono, questo, trasformazione, quindi, come vedete, qua, si tratta di, assecondare, questi eventi, qua, c'è un rincontro, c'è qualcosa, che, ci fa, piacere, che ci riporta indietro, ci permette, di chiudere, un ciclo, e, anche, a questo punto, poi, di avanzare, quindi, qui non vi dico, che, come ho detto prima, che, ci sarà poi, una storia, ci sarà un momento magico, che vi permetterà, di, chiudere, e poi, se vorrete, andrete avanti, con questa persona, altrimenti no, ma il messaggio, di questa stesa, è, arriviamoci alla fine, perché, dovevamo finire, un discorso, e questo, è quello, che succederà, è qualcosa di vecchio, vedete, che è qualcosa, che viene dal vostro passato, che è ben radicato in voi, Allora, questo è un ammonimento, attenzione, al prossimo, nel senso, che, come vedete, vi ho detto prima, sarete tentati, di dirlo, ma, anche, forse, di tenervelo per voi, attenzione, ai minimi particolari, magari, se potete, non dirlo proprio a tutti, è vero, potete chiedere consiglio, ma, ce la fate anche da soli, questo delfino, oltre a portare, una grande fortuna, ci parla, come i pesciolini, di una ripresa, delle energie, quindi, questa cosa, come vi dicevo, vi dà un restart, che, insomma, ad averne, che fa invidia, soprattutto a me, no, quindi, non sono usciti, molti simboli, ma quelli giusti, vi confermo, che è qualcosa, che viene dal vostro passato, non ci avete perso la testa, negli anni, o nei mesi, del come mai, così, c'eravate comunque rimasti, con quel pezzettino, ancora, quello spiraglio, da chiudere, e arriva questa possibilità, quindi, una cosa bella, che vi dà, una chance, per mettere, in ordine, la vostra storia, bene, allora, per chi, ha scelto la pietra viola, abbiamo finito, tante cose, in questa settimana, quindi, io spero davvero, che le sappiate, a gestire tutti, non ho dubbio, perché sono carte positive, mi raccomando, permettiamo la transizione, io con questo, vi ho finito, vi invito a mettere il like, e scrivervi, se non l'avete ancora fatto, vi aspetto, per l'oroscopo, settimanale, su Instagram, con l'Era Closet, tutti i lunedì, vi aspetto, anche su, cartomantica.com, dove potrete, anche iscrivervi al corso, che è in programma, per giovedì, sulla lettura sincronica, tra le norma, e tarocchi, è un corso, molto interessante, che ci avete chiesto in tanti, e che finalmente, farò in collaborazione, con il salotto dei tarocchi, io con questo, vi faccio come sempre, intanto, buona domenica, un grande in bocca al lupo, e vi do appuntamento, la prossima volta, che con me, su Cartomantica, ciao a tutti. Eccoci arrivati alla fine, di questo interattivo, come sempre, spero che vi abbia dato, degli spunti interessanti, vi chiedo di mettere in like, e anche di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, così, cresciamo sempre di più, vi rinnovo l'invito, se volete, a venire a vedere, e a partecipare, al corso, che ci sarà, giovedì, sulla lettura sincronica, tarocchi, le norma, trovate tutte le informazioni, sul salotto dei tarocchi, e su cartomantico.com, con questo, io come sempre, vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo, per questa settimana, e vi do appuntamento, alla prossima volta, qui con me, su Cartomantica, ciao a tutti.